Artifex Artifex è un evento particolare, un aperitivo con musica ed arte. Sì esatto, volevamo cercare qualcosa per coinvolgere anche i ragazzi che normalmente non partecipano alle mostre, quindi abbiamo pensato di fare un'ibridazione di quello che eravamo soliti fare, quindi concerti e manifestazioni più divertenti e abbiamo cercato appunto di mischiarlo anche con giovani artisti del Canavese, quindi per vedere, di riuscire a conciliare un po' arte e musica. Giovani artisti canavesani, stasera lavoreranno dal vivo? Sì, allora non tutti saranno conosciuti perché molti, tre hanno 21-22 anni, quindi sono alle prime, non dico alle prime armi ma alle prime esposizioni. Appunto lavoreranno dal vivo e per quello abbiamo cercato di prendere anche degli artisti che avessero, facessero delle opere diverse l'una all'altra, quindi non sono tutti pittori, c'è appunto dei computer grafica, abbiamo uno scultore, c'è una fotografa e poi ovviamente anche due che dipingono, quindi abbiamo cercato un po' di mostrare più arti possibili tutti assieme. Uniti alla cucina calavesana? Sì, esatto. Si mangia sempre in qualche modo, bisogna mangiare e bere mentre si guarda l'arte e mentre si chiacchiera e si beve un bicchiere di vino. Mayday 2015? Mayday 2015 è un progetto che continua a occuparci i pensieri soltanto per il momento, ho finito questo aperitivo dove cerchiamo sempre di coinvolgere maggiormente il gruppo di gente che più ci sta vicino, che ci segue normalmente a questi eventi, sa che stiamo per partire con la preparazione di Mayday 2015 e ne siamo molto entusiasti. Grazie. Grazie. Grazie.